...marano sul panaro di Modena, progettisti di Cecilia Mastri della Tecne Studio Associato di Architettura e Ingegneria e abbiamo detto che non riusciamo a leggere tutte le motivazioni per accelerare, premia l'assessore, il direttore di AES Andreoli e ti ripremo l'architetto di Cecilia Mastri. Abbiamo lasciato, avete la pubblicazione, credo tutti hanno avuto la pubblicazione, quindi vi avete proposto e la dovete dare, se non so, comunque avete modo di approfondire la tematica, daremo come abbiamo sempre fatto anche divulgazione di pubblicazioni di questi progetti nei siti, non solo di AES ma anche nelle riviste, nei siti di architettura, quindi ci sarà modo magari poi di risentirci per dare durante questo anno la massima divulgazione. Grazie ancora, grazie, ciao.